Parliamo di The Whale, film che attendevo veramente tanto e al contrario degli ultimi film di cui ho parlato candidati agli Oscar di quest'anno come Gli Spiriti dell'Isola e Marcel Duchel, ripeto trovate già le recensioni pubblicate sul canale, questo lo attendevo veramente e non tanto per Aronofsky perché non sono un grandissimo fan del regista, anzi mi mancano alcuni dei suoi prodotti compreso Requiem for a Dream, forse il più famoso di Aronofsky, sicuramente lo recupererò prima o poi fatto sta che attendevo The Whale soprattutto per Brendan Fraser e la sua interpretazione e da tanto che non si vede Brendan Fraser in un ruolo così tanto importante, comunque lui ha continuato a recitare negli ultimi anni ma per lo più in ruoli secondari o in tv, come per esempio la serie Doom Patrol della DC ma ero veramente curioso di beccarmi un'interpretazione così importante, due ore di film che reggono tutte sulle spalle di Brendan Fraser io sono stra contento per questo attore, soprattutto dopo aver visto il video che mi ha sciolto il cuore da Venezia dove è stato presentato The Whale, in cui tutta la folla, tutta la gente dopo aver visto il video si è alzata quindi standing ovation di qualche minuto per l'attore che a sua volta si è alzato piangendo, facendo un po' di gag così per rompere un po' il momento di tensione, appunto un momento felice comunque per lui ma conoscendo quello che ha passato e tutta la fama che avrebbe potuto avere se non fosse successa una certa cosa non mi voglio concentrare adesso a parlare di questo perché ci sono comunque già tanti video, tanti articoli che ne parlano qui voglio per lo più parlare di The Whale, la mia opinione su questo film ripeto, chiudo, sono veramente felice per Brendan Fraser tra l'altro sono contentissimo che sia stato candidato agli Oscar soprattutto dopo aver visto appunto il film e la sua interpretazione completa di due ore ripeto, il film è lui, anche se ci sono altri personaggi, The Whale è lui non so se vincerà l'Oscar come miglior attore ma se dovesse essere così non sarei sorpreso dopo aver visto il trailer non sono voluto andare oltre nella conoscenza di questo film volevo arrivare in sala senza sapere tantissimo ed infatti ho scoperto solamente dopo che è un film tratto da uno spettacolo teatrale e la cosa si sente fortemente durante la visione per diversi motivi in realtà come per esempio la location unica perché a parte che è giustificata dalla condizione del personaggio di Charlie appunto interpretato da Brendan Fraser la location è solo una ovvero l'appartamento del protagonista e ogni tanto vabbè comunque il portico non ci si sposta tantissimo dalla casa di Charlie a proposito di Charlie, oltre ad essere interpretato in un modo magnifico da Brendan Fraser il trucco, il trucco prostetico che ha l'attore per risultare un uomo con più di 300 kg addosso è realizzato bene probabilmente ogni tanto viene usata anche la CGI mi è parso di vedere un po' di CGI in qualche movimento un po' strano di queste protesi ma il trucco utilizzato è veramente ben fatto non a caso è comunque anche candidato come miglior trucco per gli Oscar di quest'anno in ogni caso il cast di personaggi è comunque molto piccolo ci sono alcuni personaggi che tornano più volte in scena altri che invece compaiono solamente una volta o un paio di volte massimo ma ogni singolo personaggio è importante ai fini della trama la figlia di Charlie, Ellie interpretata dalla Max di Stranger Things ovvero Sadie Sink interpretata tra l'altro in un modo davvero fantastico anche se il personaggio è odiabile ma nel senso buono del termine o comunque nel senso positivo perché l'idea della Ellie del film è quella deve essere quel tipo di personaggio per tutta la durata forse un po' esagerate in qualche frangente la sua caratterizzazione forse potevano fare qualcosa di meno a riguardo del personaggio ma è un personaggio che comunque ho apprezzato nel suo essere insopportabile tralasciando comunque il finale che sotto certi punti di vista potrebbe essere prevedibile ma comunque l'ho apprezzato davvero tanto anche per il personaggio di Sadie Sink tra l'altro da fan di Stranger Things non posso che essere felice anche per Sadie Sink che si è liberata comunque è uscita un attimino dalla televisione fino ad arrivare a un film che è stato anche candidato a diversi Oscar lei non è candidata come miglior attrice non protagonista ma lo è al contrario comunque Hong Chao che nel film interpreta Liz ovvero l'amica infermiera di Charlie che compare più volte ecco sia Ellie che Liz sono due personaggi che tornano spesso anche perché forse sono i più importanti a livello di rapporto con Charlie c'è un altro forse l'ultimo personaggio che torna spesso in scena per diverso minutaggio ovvero Thomas il missionario interpretato da l'Harley di Iron Man 3 tra l'altro cresciuto naturalmente ecco tutto ciò che circonda questo personaggio forse è uno dei problemi uno dei pochissimi forse l'unico problema del film per quanto mi riguarda la sua sottotrama che viene comunque presentata in modo ottimo potrebbe essere eccessiva anche se ai fini della trama e ai fini del finale di questo film è utile per far capire diverse cose ai personaggi soprattutto a Charlie ma forse viene riservato un po' troppo spazio a questa trama che sicuramente è meno interessante almeno per quanto mi riguarda di quella principale e avendo così tanto minutaggio ho avuto l'impressione che sia stato tolto del minutaggio alla trama principale che comunque il film sarebbe potuto durare molto di meno di un'ora e cinquantasei quasi due ore due ore che comunque a me sono volate nonostante la lentezza perché sì, è un film lento in tutto la regia è soprattutto molto statica anche la fotografia potrebbe sembrare abbastanza pigra ma non lo è assolutamente ho apprezzato tantissimo l'uso del formato 4 terzi da una certa scena in poi all'inizio comunque quando si entra appunto nell'appartamento di Charlie ed è naturalmente un espediente per accentuare ancora di più il senso di claustrofobia che lo spettatore deve anche provare durante la visione di The Whale infatti oltre ad avere la solita unica location un appartamento poco ordinato perché naturalmente con la condizione di Charlie questo enorme peso non gli permette di mettere in ordine o comunque di fare una vita normale e tutto ciò crea angoscia nello spettatore senza alcun dubbio durante la visione si possono provare anche diverse emozioni per lo più comunque ci si commuove almeno il film cerca in tutti i modi di farti piangere ad ogni singola scena ad alcuni è riuscito senza nemmeno troppi problemi infatti ho sentito di gente anche che conosco di persona che effettivamente ha pianto per una buona parte del film diciamo tutta la seconda parte ma posso dire tranquillamente che è un problema mio io non piango quasi mai con i film piango veramente raramente per un film o una serie fatto sta che comunque con The Whale mi sono avvicinato tantissimo alle lacrime e la pelle d'occa comunque si è sentita fin dall'inizio del film in realtà per diverse presentazioni per diverse scene in cui ti fanno vedere come vive Charlie quello che non riesce a smettere di fare scene che veramente mi hanno inquietato sono cose però che solitamente non dovrebbero inquietare però più che piangere soprattutto sul finale mi sono commosso e soprattutto ho avuto un senso di tristezza anche se il finale in qualche modo potrebbe essere visto da qualcuno in modo quasi positivo perché succede una certa cosa che forse per i diversi personaggi è anche meglio e probabilmente sono anch'io di quest'idea più o meno il film non ha un finale al 100% negativo ovviamente sì triste, angosciante, commovente chi più ne ha più ne metta davvero tantissime cose tantissime emozioni che si sono provate durante la visione ma io penso che anche il finale sia in qualche modo positivo e lo dico comunque in qualche modo sono collegate le due cose da non credente nel film ritorna spesso il tema chiesa il tema fede il tema al di là la morte non è un segreto anche nel trailer viene fatto intendere ma Charlie a causa della sua forma fisica potrebbe morire da un momento all'altro e ho apprezzato davvero il modo in cui è stata presentata tutta la sua evoluzione perché anche se di evoluzione c'è davvero poco perché alla fine il personaggio rimane quello che è sempre stato più che subire un'evoluzione perché alla fine il personaggio, ripeto, inizia in un modo finisce leggermente modificato ma non tantissimo più che subire un'evoluzione dà la possibilità ad altri personaggi di evolversi e per quanto mi riguarda succede tutto nel modo migliore in questo video non voglio concentrarmi su una parte con spoiler quindi non voglio entrare nel dettaglio di The Whale non voglio fare spoiler sul film perché voglio che si vada a vedere in sala quindi vi esorto senza alcun dubbio ad andare a vedere The Whale al cinema perché è un film che merita forse non uno dei migliori candidati agli Oscar di quest'anno ma sicuramente uno dei migliori film che abbia visto nell'ultimo periodo contento di averlo recuperato visto che lo attendevo dal primo secondo in cui è stato annunciato non ricordo se proprio a Venezia direttamente era stato annunciato il film comunque erano uscite le prime immagini la prima immagine questa qui di Brendan Fraser con il trucco prostetico e da quel minuto, da quell'esatto minuto ho aspettato The Whale e ora sono contento di averlo visto e contento soprattutto che mi sia piaciuto e che non mi abbia deluso in quasi niente quelle poche cose che mi hanno deluso sono veramente minime e sono appunto la caratterizzazione eccessiva di Ellie della figlia di Charlie in alcune cose non nemmeno in tutto il personaggio in alcune scene è la sottotrama di Thomas che serve, ripeto, al film ma poteva essere ridimensionata anche il titolo ha un significato in realtà ha più significati quello più visibile comunque quello più riconducibile al film per chi magari non l'ha ancora visto ovvero il peso di Charlie The Whale, la balena vista come dispregiativo nei confronti del personaggio ma ha un altro titolo che non voglio spoilerarvi anche se non ricordo se nel trailer viene rivelato in qualche modo comunque anticipato fatto sta che voglio che guardiate il film per capire il significato di The Whale come titolo è una cosa che ritorna spesso e che sicuramente dalla prima parte del film alla seconda cambia concetto cambia soprattutto significato e sentimento, emotività ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto se avete visto The Whale se vi è piaciuto se pensate che vincerà qualche Oscar io comunque sono abbastanza indeciso sull'Oscar come miglior attore perché ci sono diversi attori che potrebbero meritarselo ma se dovesse vincere appunto Brandon Fraser sarei molto contento sinceramente se volete fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate più nel dettaglio se volete fare spoiler mi raccomando anticipate il vostro commento con una scrittura enorme di spoiler per non rovinare il film a chi ancora non l'ha visto io vi invito come sempre a seguirmi anche sugli altri social tanto i link sono tutti nella descrizione c'è Instagram, c'è TikTok c'è Letterboxd dove ho pubblicato una mini recensione di The Whale subito dopo aver visto il film in sala è una cosa che su quel social faccio spesso quindi appena proprio uscito dalla sala o dopo aver visto un film in streaming su Netflix o su Prime Video pubblico direttamente una mini recensione di qualche rigo sul sito sulla piattaforma quindi vi consiglio di andare a seguire anche quel profilo come sempre in descrizione ci sono i link di Pampling del Fantasia Store il primo per avere calze, magliette, felpe, zaini, tazze chi più ne ha più ne metta tutte con magari il codice Il Pensiero 4 che vi darà la possibilità di avere un paio di calze gratis a scelta e poi c'è anche il link del Fantasia Store dove potete trovare giochi in scatola giochi di carte, carte collezionabili Funko Pop e manga e con il codice Andri5 avrete la possibilità di avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito e niente, io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao